Un settore in crisi, quello degli ambulanti, l'allarme di Confesercenti parla della chiusura di interi mercati entro il 2025, questo stando ai dati dell'osservatorio. A Pescara la situazione si sta addirittura complicando. Il mercato più importante è quello del mercoledì di Piazza Duca che si estende nel tratto di strada parco tra via Muzzi e via Cavour e che conta più di 100 venditori sarà spostato a partire da gennaio tra via Diaz, via Delfino Spiga e via Michelangelo. Oppure c'è un'altra soluzione unica che dovremmo aprire dietro al parcheggio Lenaiati, però è una zona morta, non lo vuole nessuno perché non c'entra niente con Piazza Duca. Poi è adiacente al mercato del martedì. Certo, è anche adiacente al mercato del martedì, perciò è bocciato un po' da tutti. Poco importa se le necessità riguardano il percorso della filovia, i mercatari hanno imparato bene una sigla PNRR e per loro non si tratta affatto di un beneficio, nemmeno se legato alla città che diventa più green o sostenibile che dir si voglia. La mentalità del politico è sempre quella, cioè nessuno dice diamo una mano a questa paura gente che sta in mezzo alla strada a lavorare. Tutti quanti pensano di accontentare l'amico, di accontentare la parte dove c'è convenienza. Una volta il mercato era un centro di assemblamento di persone, dove portava vita, dove portava... Ora è diventata una cosa scomoda per l'amministrazione. Lei prima parlava di investimenti di fondi di PNRR. Sì, questo PNRR per noi è stato un problema, sai perché? Loro devono spendere questi soldi, maledetti i giorni che gli hanno dato. Però stanno grovinando noi, perché vogliono fare un giardino per giustificare questi soldi, devono mettere quattro piante e ci spostano glambulanti, perché là glambulanti è da fastidio. Però non è che gli trovi un posto adeguato per farlo vivere. Sennò il mercato non si fa. Capite a che punto siamo? Questo è un paese democratico. Questo non è un paese democratico. Qua loro, per giustificare i soldi che loro spegnono, metterebbero sotto pure la mamma e il padre. Gli stessi ambulanti affronteranno lo stesso problema per il mercato del martedì a Montesilvano, quello di Viale Europa. Il nuovo mercato potrebbe essere trasferito in Via Finlandia, una delle strade principali del quartiere PP1.